Pazzesco, va bene. Dai, veloce che ci sono i funerali di Mandela. Veloce. Satellite. Ciao, grazie Dimitri. Via, pronti, regia. Grazie Cinzia Poli, Lex News. Buongiorno, oggi abbiamo le News for Dummies. Notizie per uomini duri, anzi durissimi. A Perugia si è concluso il nono congresso di rifondazione comunista. Ha vinto la linea dura del segretario Ferrero. Spiegare che questo gli dà diritto al suo nome sul barattolo di cioccolata. No. Nel 2025, un ragazzino su due sarà Miope. Chiarire che è per internet e videogiochi, non per quella vecchia roba là. David Duke, il leader del Ku Klux Klan americano, viveva nascosto in provincia di Belluno. Spiegare che la questura lo ha scovato perché al bar chiedeva sempre e solo un cappuccio. E adesso se la regia mi manda le immagini in alta definizione, ecco qua, ecco qui. Berlusconi è stato felice di sentire che Renzi era al 68%. È un buon prezzo, prendiamolo! News for Dummies è l'informazione con l'aiutino. Grazie. Grazie Poli, ma non era mica Leo Ferri, mica sono i saldi al 50%. Tu vi fai saldi. Sì 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 sì. No.